L'unità operativa tutela ambientale della Polizia Municipale da oggi ha una nuova sede in via Domenico Fontana. È una struttura di 400 metri quadri, assegnata e incomodato d'uso gratuito per sei anni, a seguito di un protocollo di intesa tra la città metropolitana e l'amministrazione comunale, che consentirà di risparmiare circa 35.000 euro all'anno di fitti passivi sul bilancio del Comune. L'inaugurazione è questa mattina con il sindaco Luigi De Magistris. Questo era un bene che doveva essere dismesso come città metropolitana, invece raccogliendo le istanze della Quinta Municipalità, della Polizia Municipale e dei cittadini, abbiamo non solo insediato l'unità di Polizia Ambientale, ma anche un rafforzamento di Vomero a Renella, con un presidio qui a via Domenico Fontana. Quindi è importante a tutela dei cittadini e come presidio della presenza del Comune e della Polizia Municipale. È una bella sinergia, ancora una volta, tra Comune di Napoli e città metropolitana. Occupata in precedenza dall'ex Polizia Provinciale e da associazioni culturali, la nuova sede della Polizia Locale è dotata di 10 stanze, garage e camere di sicurezza e garantirà nel quartiere a Renella una presenza maggiore dell'unità addetta al contrasto e alla prevenzione degli illeciti ambientali. Questa posizione è più funzionale perché è più centrale rispetto alla distribuzione dei quartieri e delle vie di collegamento. Abbiamo anche una struttura attrezzata con un'autorimessa, quindi abbiamo le auto a disposizione, quindi possiamo essere operativi in maniera flessibile, possiamo muoverci sul territorio per proseguire in maniera efficace le attività. In aggiunta e come nuova attrezzatura abbiamo da poco la sala operativa con l'impianto di telecamere con cui possiamo monitorare alcuni siti di discarica che sono stati storicamente oggetto di abbandoni di rifiuti speciali, pericolosi e con questa attività riusciamo invece ad avere un riscontro eccellente perché verifichiamo che non ci sono più abbandoni di rifiuti in questi siti.